Naturalmente i Romani sanno e ricordano bene cosa pensa e cosa ha fatto su Roma la Lega di Salvini e i disastri della destra di Alemanno. Il primario sarà una bellissima giornata di partecipazione, anzi mi consenta di rivolgere un invito a tutte le Romani e i Romani di partecipare numerosi, il 20 giugno si voterà tutto il giorno, ci saranno i seggi nella città, si potrà anche votare online, sarà una bellissima giornata. Guardi, io girando in questi giorni per le periferie, per la città, incontro ogni volta dei casi di degrado da una parte e dall'altra di straordinari beni comuni dati ai cittadini da associazione di cittadini. Ieri a Torre Spaccata un centro culturale bellissimo a cui il Comune di Roma fa la guerra, una scuola di musica, luoghi fondamentali, prati, curati, ormai quando arrivo e vedo l'erba tagliata dico associazione di cittadini naturalmente, facciamo da noi, facciamo la manutenzione da soli, ci pensiamo noi, il Comune non fa nulla. Quindi non si tratta solo che ora il Comune deve tornare a fare la sua parte, ma che queste risorse di intelligenza civica, perché ormai i cittadini non solo denunciano il problema, dicono il mercato non è concluso, la scuola non è restaurata, le case popolari, ieri di nuovo sono stato nel quarto municipio, abbiamo fatto il super bonus, io da ministro, ci sono risorse straordinarie con cui se il Comune se ne occupasse le case popolari potrebbero essere rimesse a nuovo, non si è mosso nulla, macchie di acqua, degrado inutile con risorse che ci sono, ma i cittadini ti aiutano perché disegnano il problema e ti aiutano anche a trovare la soluzione. Quindi le primarie servono anche a costruire una grande alleanza civica, oltre che politica, di tutti i romani che vogliono partecipare al riscatto di Roma. Bisognerà costruire una settantina di case della salute, cioè di luoghi di vicinanza, di assistenza sanitaria territoriale, vicini ai cittadini, dove i cittadini possono trovare il medico, gli infermieri, fare gli esami. Ora questa cosa qui è una risorsa straordinaria, abbiamo imparato col Covid quanto l'assistenza territoriale sia importante. Bisogna riuscire a farle entro il 2026, con i tempi biblici con cui normalmente si fanno le cose a Roma, sembra impossibile, ma invece è una straordinaria opportunità.